Un saluto agli amici di Android Geek, oggi abbiamo il piacere di recensire uno dei prodotti più particolari lanciati in questo 2011, ossia LG Optimus 3D, primo smartphone a debuttare sul mercato con uno schermo 3D con tecnologia parallax barrier, ossia la stessa presente sulla console portata nell'Intenta 3DS, tecnologia che ci consente di visualizzare i contenuti in 3D stereoscopico senza dover utilizzare i famosi e odiati occhialini speciali a cui il cinema ci ha ultimamente abituati. A livello di design è molto bello, elegante, risulta essere molto molto grande a livello di dimensioni, ne vediamo un esempio con un confronto con il T-Mobile G2, HDS, magari vediamo anche in confronto con HTC Salsa e Optimus Life, quindi il piccolino di casa LG. Le dimensioni sono per la precisione di 128 mm di lunghezza, quasi 29, di larghezza 68, 11.9 lo spessore. Il peso invece di 168 grammi si sente abbastanza in mano, ma tutto sommato possiamo dire che è un po' nella media di quei smartphone con display da 4.3 pollici, così come ne abbiamo uno da 4.3 su Optimus 3D. A livello costruttivo abbiamo una buona qualità, infatti abbiamo un mix di alluminio e plastica, plastica che ricopre la cover posteriore, gommata, quindi non scivola ma soprattutto favorisce l'impugnamento. davanti abbiamo una protezione Gorilla Glass, quindi abbiamo un display super resistente ad urti, graffi e torture di vario genere. Guardiamo magari un pochino meglio nel dettaglio. sul lato sinistro abbiamo due porte, quella micro USB e quella micro HDMI che insieme al cavo fornito in dotazione ci consentirà di collegare Optimus 3D ad una televisione ad alta definizione, quindi proiettare qualsiasi attività Android, quindi possiamo giocare, possiamo scaricare dal market, possiamo guardare film, navigare sul web, qualsiasi cosa sarà proiettata sulla TV ad alta definizione, se poi ne possedete una 3D potrete anche godere dei contenuti 3D. Sul lato destra abbiamo il bilanciere del volume, il tasto dedicato per accendere e spegnere l'effetto 3D, quindi per switchare velocemente, nella parte superiore abbiamo il pulsante accensione e il jack per inserire le cuffie. Sul retro invece abbiamo le due casse audio, ma soprattutto abbiamo le due fotocamere del cinema megapixel una con autofocus e flash LED capaci di registrare video e catturare foto in 3D stereoscopico. Nella parte frontale abbiamo l'altoparlante l'interiore, abbiamo sensori di prossimità e di luminosità, non abbiamo purtroppo il LED di stato. Presente però una cam VGA che ci consente di effettuare video chat, autoscatti, ma anche video chiamate tradizionali, tanto che LG ha implementato questa funzione all'interno del software Optimus 2.0. Ovviamente abbiamo i tasti soft touch, home, menu, back, ricerca, display, abbiamo detto, da 4.3 pollici, 16 milioni di colori, risoluzione 800x480 pixel, ma soprattutto IPS che integra la tecnologia 3D parallax barrier. IPS che ovviamente ha un'ottima resa dei colori, come abbiamo già visto sul dual, ha un ottimo angolo di visuale, molto leggibile la luce del sole, quindi un display veramente eccezionale. Sotto la scocca abbiamo un super chipset, ossia l'OMAP 4430 di Texas Instruments che integra un processore Cortex A9 dual core da 1 GHz, la GPU dedicata a PowerVR SGX540 con clock a 300 MHz, specifico la frequenza perché in molti si ricorderanno questa GPU sul primo Galaxy S, ma in quel caso il processore grafico lavorava a 200 barra 220 MHz. Qui abbiamo quindi un SGX540 decisamente più performante. Inoltre abbiamo 515 MB di memoria RAM a bordo, ma soprattutto la tecnologia dual channel. Spieghiamo ovviamente cos'è. In pratica non abbiamo un singolo canale di comunicazione tra il processore dual core e la memoria RAM condiviso, bensì abbiamo due canali dedicati ognuno per un singolo core e questo consente di evitare call di bottiglia, quindi cali prestazionali, quando il processore è impegnato con elaborare grosse quantità di dati. Un esempio specifico, tipico, è il multitasking estremo, anche lo streaming video, quindi la multimedialità. Quindi un chipset davvero molto molto efficiente. Inoltre abbiamo 8 GB di memoria interna, poco meno di 1 GB destinata all'installazione delle applicazioni. facciamo vedere. Ecco qui. Ovviamente io ho installato alcune applicazioni, quindi lo spazio è un po' ridotto. Quindi 8 GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite micro SD, fino a 32 GB. abbiamo anche una batteria da 1540 mAh che garantisce una giornata piena con un utilizzo molto molto intenso. Però ovviamente il discosso è un pochino diverso nel caso di 3D intenso, ossia se utilizziamo moltissime applicazioni 3D la batteria scenderà in maniera molto molto più veloce. A bordo abbiamo Android in versione 2.2.2, ossia Froyo. Gingerbread è prevista per ottobre. Porterà molte novità, tra cui anche il famoso convertitore 3D dei giochi non nativi. Ovviamente ritroviamo l'interfaccia Optimus 2.0 che quindi consente una grande presentazione. Tanti widget, ve ne faccio vedere alcuni. ad esempio l'album fotografico, quindi widget molto molto curati dal punto di vista grafico. Ce ne sono ovviamente anche relativi ai social network, calendari. i widget sono ridimensionabili, praticamente tutti. Ce ne sono alcuni molto carini, ve ne faccio vedere alcuni, ad esempio introdotti su questo Optimus 3D, come Rig Note che in pratica ci consente di inserire un'immagine all'interno di una nota. oppure quello relativo ai social network, che è stato praticamente rinnovato, si chiama SocialPew, dove abbiamo la possibilità innanzitutto di switchare tra i vari social network, quindi Facebook, Twitter, ma anche MySpace. Poi possiamo immediatamente scrivere qualcosa sulla nostra bacheca, ci visualizzerà anche l'ultimo stato che abbiamo scritto sulla nostra bacheca. ovviamente il widget è scrollabile con tutte le news, ma è possibile anche scrollare, e quindi visualizzare anche i messaggi privati e la nostra bacheca stessa, quindi eventuali cose che abbiamo scritto nella nostra bacheca, oppure eventuali attività che tipicamente appena la nostra bacheca, ad esempio, accettare nuove amicizie. quindi un widget molto carino e molto curato. quindi ovviamente Optimus 2.0 significa anche Gesure, anche se a dire verità, rispetto all'Optimus Black ne abbiamo soltanto due. su Optimus Black c'era almeno una dozzina, qui abbiamo Gesure un pochino ridotte. ovviamente l'Optimus 2.0 si diffonde e si espande anche nel menu delle applicazioni, quindi abbiamo la presentazione divisa in categorie, possibilità di creare nuove categorie, spostarle al nostro piacimento, a livello di ordine, possibilità di visualizzare il menu delle applicazioni, quindi scrollare in maniera diversa, verticale, orizzontale, come insomma vogliamo. ed ovviamente sarà possibile anche spostare le applicazioni, disinstallarle quindi in maniera molto rapida, quindi quindi un launcher che oltre che essere molto ben fatto a livello diciamo estetico, quindi molto curato, è comunque molto molto utile, efficiente e intelligente perché consente di effettuare operazioni in maniera molto più veloce e intuitiva. passiamo a scoprire quella che è la caratteristica principale del prodotto, ossia il 3D stereoscopico, da questo punto di vista LG ha davvero fatto un bel lavoro, tanto da includere molte applicazioni 3D, proprio per dare modo all'utente di poter godere sin da subito di questa particolare peculiarità. ad esempio abbiamo l'applicazione 3D Space che è una sorta di centro di raccolta dove sono radunate tutte le funzionalità e applicazioni 3D implementate su questo device e che rappresenta in un certo senso anche un buon allenamento per cominciare a captare correttamente l'effetto 3D. Purtroppo chi sta guardando questa video recensione non potrà vedere l'effetto 3D perché servirebbe una videocamera 3D per acquisire il video e allo stesso tempo a voi servirebbe una TV o un monitor 3D per visualizzarlo. In ogni caso io posso dire che l'effetto 3D c'è, funziona bene ed è di due tipi, ossia abbiamo sia l'effetto profondità e sia l'effetto degli oggetti che escono fuori dallo schermo. In questo caso noi siamo sulla guida 3D e abbiamo a che fare con alcuni oggetti che ruotano e questi hanno proprio l'effetto del bucare lo schermo, quindi escano fuori dallo schermo. Guida 3D che ci dà dei consigli, ad esempio per visualizzare al meglio la stereoscopia dobbiamo essere posizionati a 30-40 cm dal display e guardare in modo centrale, quindi posizionando la testa in modo molto centrale. Allo stesso tempo ci dà consigli sul come creare contenuti 3D, quindi scattare foto e video, l'ideale è posizionare la fotocamera a mezzo metro o a due metri dall'oggetto che vogliamo fotografare. Ovviamente ci ricorda come possiamo condividere i contenuti 3D su YouTube oppure sui social network, così come possiamo visualizzare i contenuti 3D su TV 3D attraverso il cavo HDMI, ad esempio sfruttando la funzionalità di HDMI mirroring, oppure la tecnologia wireless di LNA, ovviamente anch'essa supportata da Optimus 3D. Andiamo su qualche applicazione stereoscopia, ad esempio la fotocamera, fotocamera che ci consente scatti sia in 2D che in 3D, in 2D praticamente abbiamo una situazione massima di 5 megapixel, ovviamente vari effetti grafici da applicare, in 3D abbiamo qualche impostazione in meno da settare, però abbiamo appunto la stereoscopia e abbiamo la possibilità di farli a 3 megapixel. Idem i video possiamo fare sia in 2D sia in 3D, in 2D abbiamo la possibilità di acquisirli a 1080p, quindi full HD, oppure in 3D a 720p, quindi la risoluzione è conosciuta anche come HD Ready. Andiamo nella galleria, e vi dico subito che le foto e i video sono il tipo di contenuto che di primo impatto colpiscono maggiormente. Vediamo una foto, ad esempio questa qui, dell'orologio, in pratica questa foto l'ho scattata come se fosse una macro, e l'effetto finale è proprio quello dell'oggetto, in questo caso l'orologio, che buca lo schermo, quindi fuoriesce lo schermo, molto carino. Ovviamente anche i video sono molto particolari, quindi colpiscono molto, ne vediamo uno. Esattamente questo. I filmati in pratica sono molto d'impatto, sin da subito ci si accorge dell'effetto profondità. Poi se noi avviciniamo la videocamera 3D, in questo caso l'Optimus 3D, su un oggetto, in maniera molto ravvicinata, come se volessimo fare ad esempio una macro, l'effetto finale, quando andremo a riguardarlo, sarà proprio quello dell'oggetto che esce fuori dallo schermo. Ad esempio noi mandiamo un pochino avanti così vi faccio capire cosa intendo. Ad esempio in questo caso mi sono avvicinato molto a questa foglia e l'effetto finale sarà, quando andremo a riguardarlo, proprio della foglia che fuoriesce dallo schermo, quindi molto, molto d'impatto. Andiamo sul YouTube 3D, altra applicazione realizzata ad hoc. Altri non è che un'applicazione che raduna tutte quelle che sono i video girati dagli utenti in 3D. E abbiamo anche qui la playlist, quindi i filmati divisi per categoria. Un filmato che mi ha particolarmente colpito è quello di una partita di calcio, mi pare Newcastle-Celsea. Questa. Con la bandiera che sembra quasi proprio uscire fuori dallo schermo, ma allo stesso tempo abbiamo delle visuali, a volte dagli spalti, e ci darà proprio la sensazione come se noi fossimo lì allo stadio, come questa. in pratica, sembra come se noi avessimo acquistato un biglietto, quindi saremo lì per assistere alla partita. Ovviamente un video che personalmente consiglio a tutti quelli che hanno una televisione 3D, è un video che va visto, perché è probabilmente molto impressionante. Vediamo se riusciamo a vedere qualche spezzone di partita. Questa è un'entrata dei giocatori. No, veramente un video super consigliabile. Passiamo al lato ludico, andiamo ad avviare qualche applicazione appunto ludica, quindi giochi. Giochi 3D che in pratica sono 3, Nova, Asphalt e Let's Golf 2, quindi tutti di Gameloft. Ah, vi faccio notare una cosa. In pratica, quando noi andremo a installare tutte le applicazioni 3D, le ritroveremo proprio in questa schermata. Ad esempio, abbiamo l'applicazione Ferreo, che è un'applicazione dove gli utenti possono caricare le foto in 3D, quindi chi ha un Evo 3D o un Optimus 3D potrà caricare da qui. Possiamo anche volendo vedere le foto 3D scattate dagli altri. Può essere molto utile perché comunque possiamo osservare come gli altri scattano le foto e quindi possiamo un po' migliorare il nostro modo di scattarle. Ovviamente io sto prendendo, diciamo, foto a casa, poi quelle belle le dovete ritrovare voi. Quindi dicevamo appunto il lato ludico, dei tre giochi 3D presenti, quello che maggiormente d'impatto a mio avviso è Let's Golf 2, che è poi quello che vedremo tra poco. Il motivo per cui Let's Golf 2 è maggiormente d'impatto è perché comunque è un gioco molto, diciamo, rilassante, quindi abbiamo un po' tutto il tempo di poter godere della stereoscopia. Non si può dire la stessa di Asphalt 6 dove abbiamo a che fare con un gioco un po' frenetico e quindi non c'è proprio tutto questo tempo di appunto vedere l'effetto 3D. Però anche lì c'è. Facciamo una partita veloce. Ovviamente ricordo che l'effetto 3D è disattivo per in qualsiasi momento attraverso il tasto fisico. Inoltre bisogna anche dire un'ulteriore cosa, ossia che ogni applicazione è stata ben studiata, infatti se ne possiamo in questo gioco aumentare e diminuire l'effetto 3D stereoscopia. Questo poi dipenderà un pochino dai vostri occhi. Ovviamente se noi spariamo a palla al massimo, diciamo, l'effetto, il tutto sarà molto intenso. Però poi dovrà, sarà il vostro occhio, diciamo, a decidere quale meglio si adatta. A mio avviso, in questo gioco, ad esempio, il mio occhio vede tranquillamente l'effetto 3D anche se è posizionato a default, cioè al 50%. La sensazione in questo caso è proprio quella di profondità. Quindi giochi, non ho visto per adesso giochi con oggetti che fuoriescono dallo schieno, ma soltanto a profondità. Grazie. 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 quindi usciamo usciamo dall'applicazione quindi un 3D che sorprende sorprende che necessita un po' di allenamento ma che devo dire funziona davvero bene e che allo stato attuale diciamo dà il meglio di sé in caso di video e foto inoltre se qualcuno si sta domandando se crea fastidio agli occhi la risposta è dipende nel senso che inizialmente dovrete un po' inabituarvi e se ascoltate il consiglio di LG, ossia quello di fare delle pause tra una sessione e l'altra non avrete nessun problema o fastidio agli occhi quindi come al solito l'esagerare ovviamente come per tutte le cose non è consigliabile torniamo nella dimensione normale parliamo di qualcosina di più tradizionale come sempre le prestazioni del prodotto Optimus 3D che è veramente straveloce non si rilevano impuntamenti né ralentamenti è sempre tutto molto veloce molto rapido praticamente qualsiasi tipo di applicazione attività Android è istantanea quindi vogliamo scaricare un'applicazione basterà veramente un attimo ovviamente questo è dovuto al fatto che è un processore dual core molto potente da 1 GHz ma anche al dual channel il dual channel che in caso come abbiamo detto inizialmente di multitasking fa un ottimo lavoro svolge un ottimo lavoro e fornisce molti vantaggi vantaggi che praticamente annulliamo questa applicazione che forse è un pochino grande vantaggi che si ripercuotono anche in ambito web che risulta essere fulminio vi faccio vedere ad esempio questo è il sito Android Geek il nostro e la navigazione web è veramente stra fluidissima ping to zoom veramente velocissimo il pan anche quindi veramente molto rapido molto display che risponde veramente alla grande apriamo un altro sito web ad esempio il Corriere dello Sport tipicamente molto pesante perché contiene molti contenuti in flash 10.3 flash 10.3 che viene veramente gestito alla grandissima probabilmente sembra come se nemmeno fosse presente fosse attivo come plugin faccio vedere una cosa molto curiosa ad esempio passiamo ad esempio a mostrare un video proprio in flash magari il focus su HTC Salsa ciao ragazzi oggi vi dedico un piccolo focus ad HTC Salsa il famoso Facebook phone nello specifico tratteremo la migrazione facciamo vedere come mentre svizziamo da una pagina web all'altra lo streaming sta praticamente continuando ovviamente se poi noi entriamo in un'altra pagina si stopperà però se noi torniamo poi nuovamente sulla pagina web di Android Geek il video continuerà proprio da dove si era messo in pausa faccio un'ulteriore prova e farò vedere come funziona bene anche quando abbiamo che fare con due video contemporanei ad esempio facciamo partire questo video caratterialmente non ho non ho mai avuto problemi importanti che si devono parlare tanto perché la stampa certe volte deve parlare di qualcosa in un'altra pagina se metteva sempre questo l'accelerometro è super sensibile in su zoom fluidissimo questo che dici tu che che lo dimostrerò che non è così per quel terreno dare di micro scattini quindi ovviamente ovviamente non manca la possibilità di quindi navigazione web come si può notare è veramente incredibile probabilmente il prodotto che al pari di Samsung Galaxy S2 meglio si comporta in ambito web passiamo magari a mostrare anche un po' come la scrittura della tastiera virtuale anche questa prende molto rapida quindi come si può notare la scrittura è veramente ottima perché comunque possiamo disporre di una schiena da 4.3 pollici quindi c'è molto spazio anche per chi eventualmente ha mani grandi io a mani medie mi trovo molto bene ma anche chi ha mani grandi ancora di più si dovrebbe trovare alla grande non abbiamo la gesture per tornare indietro come la sul black stia picchiettando il board però questo bisogna dire che anche non serve perché qui abbiamo ripeto un display generoso da 4.3 pollici passiamo magari a vedere com'è il reparto diciamo audio anche se penso si sia capito anche dal video di youtube quindi quindi a livello di audio è veramente ottimo quindi la optimus 3d che dal punto di vista multimediale dovrebbe in un certo senso spaccare nel senso abbiamo lo schermo 3d abbiamo un ips molto bello dove guardare film allo stesso tempo abbiamo un audio che non è da meno guardiamo magari anche il lato telefonico quindi come si sentono magari le chiamate in via voce le chiamate normali posso già anticipare che sono ottime non ci sono disturbi né acusi né suoni metallici di niente di niente quindi veramente ottimo e posso garantire anche il via voce si sente veramente forte lo vedremo tra qualche attimo un secondo che non posso far vedere i numeri attiviamo benvenuto in Vodafone con questo servizio potrai conoscere il suo traffico disponibile e dovere informazioni sulle offerte attive sul suo numero di cellulare il suo traffico disponibile è 20 quindi come si può sentire l'audio è veramente molto molto forte quindi Autositions 3D è un prodotto che davvero è stato curato al minimo dettaglio mostriamo anche qualcosina in più ad esempio a livello di software facciamo vedere come LG ha comunque implementato qualche applicazione che può essere più o meno utile come ad esempio l'applicazione delle finanze per seguire la borsa oppure Polaris Office per visualizzare quindi documenti Office quindi PDF Doc Excel qualsiasi cosa vogliamo c'è ovviamente Smart Share che ci consente di condividere contenuti multimediali tramite la tecnologia di LNA ovviamente dobbiamo avere una TV abilitata abbiamo l'applicazione AppAdvisor che ci consente o meglio ci consiglia circa 10 applicazioni settimanalmente scelte appunto da LG quindi un prodotto veramente completo dal punto di vista software e hardware in definitiva arriviamo quindi alle conclusioni LG Optimus 3D è un prodotto che ci è piaciuto moltissimo si tratta di un tutto e per tutto di un mostro tecnologico in quanto davvero tutto ma proprio tutto quello che si può desiderare oggi da uno smartphone infatti il prezzo di 599 euro in questo caso è ampiamente giustificato quindi molta potenza da vendere esperienza Android straveloce grazie al dual core e al dual channel e poi c'è un 3D che funziona davvero bene e su cui LG crede fortemente tanto che sta lavorando ad una serie di applicazioni molto interessanti per supportarlo al meglio tra cui appunto il convertitore 3D dei giochi non nativi che sarà una realtà in ottobre quando questo prodotto Optimus 3D riceverà l'aggiornamento a Gingerbread quindi in definitiva se cercate uno smartphone di ultimissima generazione e volete provare l'ebbrezza del 3D stereoscopico LG Optimus 3D potrebbe fare a casa vostra e con questo è tutto vi saluto e vi rimando al blog entretgeek.it ciao da Matteo